Per quanto riguarda invece la società unica, lei ha dichiarato che è disposta a vendere le ultime quote di proprietà della regione ai comuni una volta conclusa l'operazione? No, di cedere la gestione delle quote ai comuni. Io credo che la società unica risolve una volta per tutte i problemi e le diatribe tra Pisa e Firenze. Questa guerra di 40 anni, che ce la trasciniamo, è solo in una regione così bella ma anche così a volte caparbiamente localistica, che è la Toscana, ci siamo permessi di fare. Bisognava far cessare questa guerra. La società unica risolve i problemi di questa guerra e della competizione tra due aeroporti. Nessuno è così sciocco di investire 70-80 milioni su Pisa e riconfermare investimenti altrettanto importanti per far chiudere Pisa come qualcuno ha scritto o limitarne lo sviluppo. Se questa società come stiamo lavorando per chi avvenga sarà fatta entro settembre-ottobre, io sono disposto con la società unica a cedere il mio 5%, mio della regione, residuo di proprietà in ADF e l'altro 5% di proprietà in SAT pisana ai due comuni di Firenze e di Pisa finché gestiscono questo 5%. Così mi verrebbe da dire, anziché litigarsi sui giornali e opporsi in tutti i modi alla società unica, potranno litigare nel Consiglio d'amministrazione, anche utilizzando le quote della regione toscana. Ma anche questo bisogna dire che la presenza nel Consiglio, lo dico soprattutto ai pisani, garantisce di vedere quello che succede. Il Consiglio poi non è fatto un Consiglio d'amministrazione come un Consiglio comunale dove c'è una maggioranza o un'opposizione. Il Consiglio tendenzialmente di una società prende decisioni unanime. Poche volte ci si divide, ma tipicamente si prendono decisioni. Quindi se i pisani sono preoccupati di Firenze e se i fiorentini sono preoccupati di Pisa, niente di meglio che mettersi a sedere con una capacità di condizionamento anche verso il socio privato, nello stesso Consiglio d'amministrazione, e lì discutere da farsi. Per uno sviluppo contestuale dei due aeroporti, perché anche qui va spiegato ancora un'altra volta. Noi siamo una regione manifatturiera che fa molto export, siamo una regione del turismo che attrae e su cui basa una parte della sua ricchezza importante sul turismo e siamo una regione della ricerca. Bisogna dotarci di un'infrastruttura che metta la Toscana in collegamento con il mondo che ormai è globalizzato. Questa è una scelta decisiva per il futuro. Se noi non mettiamo insieme i due aeroporti e ci basiamo soltanto su Pisa, Pisa per le sue caratteristiche può arrivare fino a 7 milioni di passeggeri, non oltre perché è aeroporto militare. E Firenze se non la mettiamo in condizioni di potersi adeguare, modernizzare anche a livelli di sicurezza, rischia di rimanere comunque un aeroportucolo a servizio di pochi, perché finirebbe così. Quindi mettere insieme i due aeroporti e consentire a Firenze di adeguarsi è una scelta strategica per il futuro della Toscana. Io penso ci porterà altro che bene, anche sotto il profilo ambientale.